Musica Eccoci nuovamente assieme, bentrovati gentili telespiratori di Teleantenna con il telegiornale del Veneto orientale In apertura la cronaca a Caorle c'è stata una violenza, una resistenza alla fine con i pubblici ufficiali Ovvero con i carabinieri che cercavano di fermare una coppia di ucraini che erano entrati Prima all'interno di un hotel, in una cucina, poi in un bar Ebbene, la coppia è stata arrestata Sentiamo la cronaca nei servizi di apertura del telegiornale Vanno di locale in locale in preda ai fumi dell'alcol, prendendosela con i clienti dipendenti Dopodiché non paghi cercano di resistere ai carabinieri Così mercoledì pomeriggio sono scattate le manette per due ucraini, rispettivamente 36 e 25 anni Fermati dai militari della stazione di Caorle dopo una segnalazione partita alle 13.15 E proveniente da un albergo di via Lungomare Trieste Secondo quanto riportato dai testimoni, i due evidentemente alterati Si erano introdotti nella struttura e si erano diretti nelle cucine Qui senza motivi apparenti avevano iniziato a filmare con gli smartphone il personale addetto della cucina Invitati ad andarsene avevano reagito con prepotenza ed arroganza E si erano rifiutati di lasciare il posto, urlando ed accidandosi in maniera scomposta Solo dopo molta insistenza si era riusciti ad allontanarli Anche se i due nel guadagnare l'uscita avevano intenzionalmente colpito con la porta uno degli inservienti Fortunatamente senza conseguenza Così i militari si sono messi alla caccia dei due L'inseguimento non è durato molto, dato che sono stati trovati in un altro esercizio pubblico poco distante Dove già avevano cominciato ad importunare gli avventori Alla richiesta dei carabinieri di esibire i propri documenti I due si sono scaldati ancora di più, cercando di sottrarsi al controllo Si è quindi deciso di accompagnarli in caserma, anche perché uno dei due i documenti non li aveva Ma loro proprio non ne volevano sapere di salire sull'auto di servizio C'è stata una breve collutazione Poi finalmente sono stati bloccati ed arrestati Dopo controlli approfonditi si è scoperto che il più vecchio, il residente a Udine, era già pregiudicato Mentre il 25enne, il residente in Ucraina, risultava incensurato Sono stati messi in libertà, in attesa del rito direttissimo E i ladri invece hanno tentato l'ennesimo colpo in un locale della zona Nella località di Sette Soregle sono stati però visti e sono messi poi in fuga Sentite Tentano l'assalto notturno al bar Contarina delle Sette Soregle Ma alla fine sono costretti a fuggire chi tra i campi e chi in auto Era da poco passata l'una di notte e Noemi, la nuova gestrice dello storico bar sulla provinciale per Caurle Dopo aver abbassato le serrande, era già a casa, poco lontano dal locale All'improvviso si è tesorale l'allarme del bar collegato a un moderno impianto di videosorveglianza Agli infrarossi e sensibile al calore umano Due malintenzionati, scesi da una Seat Ibiza, si erano avvicinati alle telecamere per neutralizzarle Vedendone però registrati Il compagno di Noemi si è precipitato sul posto illuminando la zona con una fotocellula E scoprendo due figure che se la stavano dando a gambe per i campi Dopo aver chiamato il gestore delle slot machine e aver visionato i filmati Ha scoperto che i due erano scesi da una Seat Ibiza ricomparsa in zona dopo circa mezz'ora E' iniziato così l'inseguimento delle auto che ha a bordo solo il guidatore che è fuggito verso Sanstino Prendendo di lì a poco via dei Pioppi in direzione Torre di Mosto Purtroppo appena superato il ponte sulla Livenza e entrata in centro urbano l'auto ha fatto perdere le tracce Nel frattempo i carabinieri fino alle 5 del mattino hanno perlustrato in vano la zona retorzante, il bar Cambiamo pagina, andiamo a moto di Livenza C'è una situazione disperata per una famiglia che è composta dai genitori e da tre bimbi Che si trovano in un bin locale ma purtroppo a quanto pare non ci sono altre alternative In Italia dalla fine degli anni 90 Mohamed Talout, 45enne marocchino residente in via San Francesco Uno sfratto alle spalle del 2010 e chiede aiuto In 5 vivono un appartamento di 45 metri quadri Lui stesso racconta la sua storia, vivo a Motta dal 2000 Qui c'è la mia famiglia, lavoro come operaio in una dieta di prata di Pordenone Nel 2010 ho subito uno sfratto, ora vivo in un appartamento di 45 metri quadri Con me ci sono mia moglie, casalinga, tre figli, uno di tre anni, uno di sei e il più piccolo, nato due mesi fa Sono stato in comune, mi sono inserito nel graduatorio delle case Ater, sono al trentesimo posto Per me al momento non c'è alternativa Poi dice non posso nemmeno accedere ad abitazioni di emergenza perché fortunatamente ho uno stipendio Ma non è molto per 5 più l'affitto, ho le bollette da pagare o debiti con le banche, spero che qualcuno mi aiuti La questione tuttavia è ben nota all'assessore al sociale Ercole Girotto che ha spiegato il caso Taulet ha fatto richiesta di un'abitazione all'Ater e non al comune La sua graduatoria testimonia, dati alla mano, che ci sono situazioni più urgenti Inoltre ha uno stipendio sicuro in una ditta solida della zona Come amministrazione comunale, insieme agli uffici competenti Abbiamo analizzato attentamente la situazione e non possiamo dargli nemmeno gli appartamenti di emergenza Perché di fatto ha un introito Girotto poi ha analizzato più in generale la situazione della sociale nel Mottense A Mota non ci sono casi gravissimi, ma in molti devono essere monitorati spesso Fortunatamente abbiamo una rete informativa valida Con San Vincenzo, Caritas, Solo per il bene e tante altre realtà di volontariato Lo scambio dati è giornaliero Riguardo alle abitazioni Ater non è il comune a gestire la situazione In ogni caso i nostri uffici lavorano in maniera scrupolosa e approfondita Proprio per evitare qualsiasi tipo di disparità Subito in riva al mare a Bibione In sabato verrà eletta la più bella del litorale Quindi Miss Bibione 2015 Il tutto avverrà in diretta televisiva Proprio sulla nostra rete Celebrare la bellezza delle ragazze che vivono, lavorano O semplicemente vanno in vacanza nella splendida cornice di Bibione E a partire da questa idea che è nata Miss Bibione International Un concorso di bellezza internazionale Aperto a tutte le ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni Ideata da Damiano Perissinotto e dall'agenzia di immagine di Gemona del Friuli Modern Group In collaborazione con la Proloco di Bibione e con il sostegno del comune di San Michele La competizione ha preso il via con i primi casting all'inizio dell'estate Con decine di selezioni tra le ragazze Che accederanno così alla finalissima di questo sabato, 5 settembre Un evento che sarà trasmesso in diretta televisiva Dalla nostra emittente Teleantenna E in streaming in tutto il mondo Attraverso il sito direttatv.tv Dalla Bibione Palace Hotel La giuria quest'anno sarà composta da persone della moda, dello spettacolo, della fotografia, della televisione e da giornalisti Appuntamento quindi dalle 20.30 in televisione, in diretta, su Teleantenna Al Bibione Palace Hotel invece per chi volesse assistere dal vivo E ora parliamo invece della mostra sul Prima Guerra Mondiale Che è stata allestita ad Annone Veneto Abbiamo sentito Davide Zaupa C'è stato grande successo Ma sentiamo le stesse parole al microfono di Aldo Curtarelli Siamo con Zaupa Davide Qui ad Annone Veneto All'inaugurazione della Fiera degli Osei E questa fiera si inaugura con una mostra Sulla Prima Guerra Mondiale Praticamente voi avete recuperato con il tempo Tutto quello che adoperavano i militari durante la guerra della Prima Guerra Mondiale Questi reperti sono visibili solo questa sera Oppure voi fate delle fiere Insomma cercate di mostrarlo anche ai cittadini No, quando noi abbiamo la possibilità Mio padre è sempre ben contento di esporre il proprio materiale A tutte le manifestazioni O comunque in tutti i comuni dove c'è richiesta Quest'anno è la terza esposizione che facciamo Si è appena conclusa da poco l'esposizione alla Castellina di Pramaggiore E in questi tre giorni L'associazione della Fiera degli Osei Ci ha chiesto di esporre il nostro materiale Essendo noi anonesi siamo stati ben felici Insomma di accontentare le richieste La prossima manifestazione Ne avete in programma altre da visitare? No, per il momento no C'eravamo prefissate queste tre C'è qualcosa forse nell'atmosfera Ma non sappiamo Vediamo anche in base a quelli che sono i nostri impegni Vediamo, insomma Si vedrà in futuro E adesso c'è lo sport Lo vedo collegato il nostro Andrea Ruzza Grazie Marco Parliamo di mountain bike Brillante partenza a Motta di Livenza Della 27esima edizione del trofeo d'autunno Targato cicli Olimpia E organizzato dalla 05 Bike Team di Motta di Livenza Le classifiche assolute maschili e femminili Sono state vinte dall'ex professionista Enrico Franzoi E dalla Juniores Anna Lirussi Vediamo il servizio del nostro corrispondente Luca Curtarelli Che dire oggi a Motta ci ha ospitato Un bel colpo d'occhio, un bel quadro Una bella cornice, quella di Piazza Luzzati Che ci ha ospitato per la prima prova Una grande parterre Abbiamo visto tutti la vittoria e il netto successo Di un campione del mondo ex del ciclocross Un ex professionista Perché ha militato nelle maggiori squadre È risultato anche ottavo a una Parigi-Rubè Con la maglia della Lampre Con la liquiga Quindi fa piacere Lui stesso l'avrà detto Ma l'ha detto personalmente Era un onore e un piacere venire qui a Motta In questi percorsi Io li ringrazio Ringrazio tutti veramente Il primo cittadino Paolo Speranzone Allo 05 Bike Team Grazie a tutti per l'ospitalità E questa bellissima cornice In questa grande giornata Di sole, di atleti e di sport Quello vero, quello pulito, quello pedalato Grazie a tutti Siamo con Franzò e Enrico Categoria Elite Allora, primo classificato di questa trofea di Motta Soddisfazione? Sì, per me è una bella soddisfazione Ritorno alla vittoria dopo un bel po' di tempo Sì, adesso È anche più difficile per me Perché comunque Adesso Non sono più professionista Lavoro anche io otto ore Me la prendo come passione Per me resta veramente una grande passione La bici Ma comunque mi diverto ancora tanto Anche perché Grazie alla Willier E al mio titolare Che comunque Mi dà la possibilità di avere i tempi Un po' per allenarmi Riesco a ottenere ancora buoni risultati Il circuito di Motta Ho sentito che le piace particolarmente Sì, è la seconda che vinco Anche se Motta di Divinza Comunque fa parte della mia Della mia gioventù Qui ho gareggiato quando ero Ero allievo Ho anche vinto su strada qui Per cui è una Ho amici qui Di lunga data Per cui è una È una parte integrante della mia vita Motta di Divinza Siamo con Anna Di Russi Prima classificata Categoria in Nores Allora Una bella vittoria Qui a Motta Sì La gara è stata Abbastanza dura Sono riuscita a passare davanti Al primo giro E a staccare un po' gli altri Mettendo fra me e gli altri Un po' di Master Pensavo mi ritornassero sotto Ma alla fine Sono riuscita a tenere Insomma Una bella soddisfazione oggi Sì Siamo con De Porto Renato Presidente della 05 Bike Qui di Motta di Divinza Allora Presidente Bellissima giornata In una cornice Altrettanto bella Insomma Tutto ok Sì Tutto ok Devo fare ringraziamenti Prima di tutto Al Comuno Che ci ha lasciato La piazza Come tutti gli anni Poi Ringraziamento A tutti i volontari Sul percorso E anche un grazie A tutti quanti I partecipanti Che sono venuti Della provincia Di Treviso Venezia Padova E del Friuli Del Pordenone Anche quest'anno Abbiamo avuto Una presenza Molto notevole Quasi 400 partecipanti Di varie categorie Che si sono comportati Benissimo Sul percorso Non è successo niente E via di seguito Grazie Andrea Torniamo invece in studio Per andare con Vinicio Scortegagna A vederci un nuovo Scatto dal territorio Per Foto Reporter Vi ricordo che Sabato Saremo in diretta Da Bibione Permisse Bibione 2015 La bellissima La finalissima Verrà eletta In diretta Sulla nostra rete Domenica Alle 16.30 Invece Saremo in diretta Da San Michele Tagliamento A Bevazzana Per il patrono Della Madonna Del soccorso Intanto vi ringrazio Per averci scelti Ci ritroviamo come sempre Alle 14.30 Alle 17.18 Alle 19.40 Con l'Italia del giornale Del Veneto orientale 23.40 E alle 1.40 Della notte Grazie Buon proseguimento Buona serata Con i programmi In Italia Antenna A risentirci And a risentirci better To be a part is a